Che bello sarebbe avere un appartamento che si affaccia su un parco magari con un'ampia zona giorno, tre camere da letto, due bagni, balcone e garage Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere quest'appartamento in vendita Siamo in Borgo e più precisamente in via Pantoli, in fondo a questa che è una strada chiusa e qui ci troviamo in questo appartamento all'ultimo piano, libero su tre lati Grazie a tutti Grazie a tutti Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri Ci vediamo in visita